Ciao, se hai ricevuto un omaggio a una piattaforma guest pass gratuita, voglio mostrarti come poterla sfruttare al massimo. Dunque, facciamo una simulazione, per esempio su Barcellona. Ho impostato due notti a gennaio, due adulti e una stanza. Immediatamente ti uscirà un avviso che ti dice che il tuo abbonamento ospite, gratuito, ti permette di prenotare per un massimo di due notti alla nostra tariffa esclusiva VIP. Le notti aggiuntive o una seconda prenotazione richiederanno un upgrade. Ok, ce li ho messi in ordine di sconto, quindi potete vedere che è dal 61 a scendere. Prendiamo in considerazione questo Sunsea Hotel col 60% di sconto. Quindi, per due notti io pagherò solamente 151€, perché avrò uno sconto di 224€, anche se sono solo un membro guest pass, quindi gratuito. Ma che cosa succede se io voglio prenotare più di due notti? Ora vi faccio vedere. Ho impostato un soggiorno di 5 notti. Ok, quindi prendiamo sempre in considerazione lo stesso hotel, il Sunsea Hotel 4 Stelle. 5 notti. Mi dice che ho un risparmio di 504€ a condizione che faccio un upgrade ad abbonamento VIP. Quindi io, pagando 188€, io divento membro per un anno intero e avrò quindi diritto allo sconto massimo di 504€. Ma ho una seconda opzione. Se non volessi fare l'abbonamento per un anno, potrei optare per l'abbonamento VIP di un mese solamente. Quindi non spenderò 188€, ma spenderò 18,93€, avendo sempre lo stesso sconto. Quindi io per un mese sarò membro VIP della piattaforma Travel Advantage e potrò usufruire degli sconti massimi. Decidendo invece di fare l'abbonamento VIP 365, che è per un anno, vado a spendere 188,68€, quindi vado a risparmiare nell'anno circa due mesi di abbonamento. Quindi risparmio 37€. Ho sempre diritto a dei crediti di viaggio che guadagno ogni volta che vado a prenotare, per poi utilizzarli e decurtarli in una futura prenotazione. Una cosa importante che devi sapere è che il membro VIP ha due account da poter usare. Quindi tu potrai decidere di regalare il secondo account a chi vorrai tu. Oppure condividere la cifra dell'abbonamento con un'altra persona. Ma il secondo account che regalerai non avrà diritto a dei crediti di viaggio. Ogni volta che lui viaggerà con la piattaforma che gli hai regalato, tu guadagnerai dei crediti di viaggio, andando ad accumularli per poi decurtarli in una futura prenotazione. Spero che questo video ti sia stato utile. Ciao. Grazie a tutti. Grazie.